Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo che sarà più che altro una puntata riguardante questa videocamera è una videocamera veramente eccezionale alla fine ho trovato i 720 ma sono solo per gli effetti praticamente il 720 funziona solo con gli effetti quello che state vedendo praticamente in questo momento che sto riprendendo in questo momento è la modalità HDR art che è veramente una figata assurda perché come state vedendo fa delle immagini che sembrano quasi un film quindi veramente bellissime comunque in questa puntata oltre a vedere questo effetto l'effetto come ho detto art HDR art siamo qui per provare praticamente la funzione macro di questa videocamera cosa che ci avete chiesto in tanti perché non l'ho fatta praticamente mi sono dimenticato di fare questa funzione quindi siamo pronti in questa puntata a vedere la modalità macro bene allora ragazzi visto che non ho come vedete un'acquisizione indiretta dello schermo della telecamera perché purtroppo questa videocamera non ha praticamente cavo a V quindi non posso collegarla a un computer quindi ha una scheda acquisizione ho dovuto per forza acquisire l'immagine direttamente da un'altra videocamera in questo caso è una Samsung però voi vedrete quello che io scatterò bene a questo punto io vado a scattare una macro allora innanzitutto dobbiamo andare a impostare la modalità macro quindi in questo caso dobbiamo innanzitutto cambiare l'impostazione in programmata perché altrimenti non funziona allora andiamo a mettere in manuale anzi più che programmata impostiamo tipo di registrazione anzi più che altro dov'è messa a fuoco scusate ragazzi ma è la prima volta anche per me nell'usarla e quindi sono un po' rincoconito ad usarlo vediamo se riesco a trovare la messa a fuoco funzionante no questa è proprio cambiata la funzione ah eccola qua messa a fuoco come vediamo anche se si vede un po' male abbiamo tipo AF macro super macro infinito e manual focus praticamente impostiamo da noi allora a questo punto andiamo a scattare la prima foto vediamo se troviamo un soggetto da scattare vabbè proviamo questi fiori ok prima foto scattata anche se devo dire che non è un granché proprio anche perché adesso sono in best shot proviamo in questo modo ho anche un po' la mano tremolante non ho sentito ok vediamo un po' se è venuta dovrebbe essere venuta senza problemi adesso sta caricando sì dai devo dire che i colori comunque sono un po' messi bene adesso proviamo proprio è proprio un macro ma macro macro quindi in questo caso una foglia molto vicina ok ne ho fatte due in modo che sono sicuro che almeno una delle due sia venuta bene andiamo a fare un'altra foto in questo caso non saprei sinceramente cosa fare proviamo a fare delle queste castagne qua per terra o come cavolo si possono chiamare ok una e adesso prendiamola proprio da vicino ok bene ragazzi allora io ho fatto quattro esempi della macro spero che comunque anche se sono poche e comunque non sapevo su che soggetto farle spero che vi siano piaciute però io spero ragazzi che questa telecamera vi soddisfi anche perché devo dire che comunque anche se il costo è veramente poco è una multicamera veramente eccezionale tra cui io vabbè la utilizzerò più per lo slow motion che per fotografie o video normali però devo dire che per chi vuole iniziare a far foto a far video questa è proprio la macchina fotografica più giusta perché ovviamente come ho detto ha veramente tantissime funzioni tra cui video in full hd e microfoni in stereo foto da 16 megapixel uno zoom da 12,5x quindi veramente ottimo comunque il costo come vi ho detto è veramente poco 137 euro anche se adesso è 159 è lo stesso poco perché ci sono molte più compatte che non hanno tutte queste funzioni a questo prezzo e costano molto di più però già che è una Casio devo dire che è già buono comunque va bene ragazzi io vi ringrazio per aver visualizzato questo video spero come ho detto che vi soddisfi grazie a tutti e alla prossima puntata